Benvenuti amici di TecnoAndroid.it, oggi vedremo come cambiare l'animazione di avvio dei nostri dispositivi. Per fare questo ho scaricato alcune applicazioni, alcuni file per cambiare l'animazione di avvio. Innanzitutto vi faccio vedere se riavvio il mio dispositivo che cosa succede. Chiaramente per effettuare queste operazioni e quindi cambiare la boot animation, cioè l'animazione di avvio, occorre essere prima cosa avere un dispositivo con i permessi di root. Nel caso non abbiate un dispositivo con i permessi di root e vogliate ottenere i permessi di root che ricordo vanno a invalidare la garanzia, quindi perdete la garanzia in poche parole, potete seguire le nostre guide presenti sul nostro forum. Nel caso in cui sul forum non sia presente la guida per ottenere i permessi di root per il vostro dispositivo specifico, basta chiedere e noi ve la forniremo. Come vedete l'animazione di avvio del mio dispositivo, che è un Galaxy S2, non presenta il classico logo di Samsung in una ellisse, ma ho scelto un'animazione così in cui il nostro piccolo robottino Android si trova nello spazio. Ora nel frattempo attendiamo che il dispositivo si avvii. Dicevo, oltre ai permessi di root occorre poi scaricare un'applicazione che è root browser, un'applicazione che necessita sempre dei permessi di root e che ci consentirà di fornire, di fare diverse cose. Comunque, nel caso specifico dell'animazione, in cui vogliamo cambiare animazione nel nostro browser, basta andare, quindi avere il dispositivo con i permessi di root, scaricare root browser e poi scaricare dal link che trovate all'interno dell'articolo correlato a questo video, l'animazione che preferite, c'è un sito in cui trovate tutte le animazioni. Andiamo ad aprire quindi root browser. Per prima cosa bisogna andare in system, basta cliccare e si apre. Una volta in system, come vedete abbiamo qui in alto la cartella in cui ci troviamo, bisogna andare in media, poi una volta arrivati a questo punto bisogna cercare il file di animazione. Nel mio caso si chiama boot samsung.qmg. La prima cosa da fare è andare su questo file, tenere premuto e rinominarlo. Io l'ho già fatto perché ho cambiato l'animazione, come avete visto. Basta semplicemente metterci e aggiungerci un 1 e abbiamo cambiato il nome di questo file. poi occorre copiare il file zip che abbiamo scaricato sul nostro pc e metterlo, inserirlo nel nostro dispositivo. Sempre da qui è possibile andare a spostare, anzi vi faccio vedere come fare, elimino questo qui che vi ho fatto appena vedere, se riesco a trovare, bootanimation.zip, eccolo qua. Tengo premuto, lo cancello, in modo che andiamo a trovare il file, altro file che di animazione che ho scaricato. Vediamo in storage, nella SD esterna dovrebbe essere, infatti eccolo qui. Allora basta andare a tenere premuto, cliccare su move, past, cioè copia, no, scusate, allora tenere premuto, move, e poi andiamo nella cartella che desideriamo, in cui desideriamo inserire il file, che è system e media e facciamo past, cioè incolla. Ora la troveremo qui, ecco, come vedete, bootanimation.zip. Teniamo di nuovo premuto, rinomina, e adesso lo rinominiamo semplicemente bootanimation.zip e poi ok. A questo punto, non abbiamo finito, ma quasi, bisogna tenere nuovamente premuto sul file bootanimation.zip che abbiamo appena rinominato, e andare su permission e togliere tutte queste spunte e lasciare solo quelle che vedete adesso. Ovviamente anche questo lo troverete in tutti gli screenshot nel file di cui vi lascio la descrizione, in descrizione del video. Andiamo quindi a riavviare, riavvia, attendiamo un attimo, e vediamo con quale animazione si avvierà il dispositivo. Ovviamente sul sito di cui vi lascio il link nell'articolo trovate diversi tipi di animazioni, anche divise per risoluzione del display, quindi è molto facile trovarle per quelle adatte. Ecco, l'alieno, in questo caso, come vedete, è molto carina anche questa animazione. Ora, se vogliamo tornare all'animazione di default, basta ritornare sul root browser. Andare di nuovo in System, poi in Media, e andare sull'animazione che vogliamo cancellare, in questo caso quella che abbiamo nominato bootanimation.zip, tenere premuto e andare a cliccare su Delete. Poi andiamo su boot, in questo caso bootSamsung1, e lo dobbiamo rinominare, togliendo l'1, cioè in bootSamsung.qmm in questo caso, e avremo di nuovo l'animazione default. Spero di esservi stato d'aiuto, come sempre se avete domande non esitate a porcele sia attraverso i nostri social che sul forum. Con questo è tutto, un saluto a tutti i lettori di techandroid.it.